... ... ... ... ... Spero che è tutto Ma non Andiamo via Eccoci Andiamo avanti Rapporto Ciotte comandino sbroccato Madonna Manda comandi Sbroccato altre comandie Cazzo fa Signore c'è una torretta sul crinale La usi per abbattere il ponte e guadagnare tempo I ward ci saranno tutti addosso Questo sarà già visto Ok Ok Ciotte comandino Ciotte comandino Ciotte comandino Ciotte comandino Ciotte comandino oh andiamo stava a scoppio e vabbè ma la tutta è possibile signore c'è una torretta sul crinale la usi per abbattere il ponte e guadagnare tempo i ward ci saranno tutti addosso ma la tutta è forte andiamo molto bello pestulino all'interno e va a cercare poi ora c'è da poter il bastardo rimanere e la si in si andiamo l'inferma e in marta 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 i un altro bottone no? Oh Madonna Incredibile Eh vaffanculo Ho bisogno di ancora un po' di tempo Mi tenga lontani dalle torri Signore c'è una torretta sul finale A usi per abbattere il ponte e guadagnare tempo I ward ci saranno tutti addosso Non riusci a battere il ponte Un po' più veloce Allora Fermo lì Un po' più veloce Un po' più veloce Madonna no Ho fatto peggio che prima Scopo Che cazzo faccio? Si prende quello? No Un po' più veloce Un po' più veloce No, 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 no bello mamma mia chissà già sto prezzo porco cane oh molto bene, questo riralletterà che bastardo a presto non no va si v a presto capro io Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora speriamo che qualcuno sia in ascolto. Signore, se arriva una risposta alla richiesta di soccorso, la riceveremo all'ultimo turno. Stia lì vicino e la difenda. L'ho contrassegnata con un punto. Io andrò all'Icarus e le preparerò delle armi. Manca poco. Io voglio un mech. Abbiamo una torretta. All'Icarus e le preparerò delle armi. All'Icarus e le preparerò delle armi. All'Icarus e le preparerò delle armi. le torrette utilizzabili sul crinale. È la nostra ultima difesa, ma in un minuto farò funzionare con lo Star Hudder che abbiamo recuperato. Ti prepari a un conflitto a fuoco. Signore, lo Star Hudder è pronto. Ha una potenza di fuoco notevolmente superiore. Meglio che torni indietro e potenzi la sua arma. Ora si ragiona, eh? L'ultimo punto all'ordine del giorno. Ambatta qui in Nek. Così potremo decollare e uscire da questa trattata. Wow, ma chi è questo il frutto? Se io carico questa cosa... Allora, facciamo caso che io... Guarda l'ordine del frutto. Signore, ho ricavato dell'esplosivo dall'equifacciamento e l'ho piazzato su quel punto. Sceglie bene i tempi, riuscire ad annientare due nemici con un colpo su. Certo, proprio da pazzi. Proprio da pazzi. No, no, rilevo un mech nemico che tenta una sortita. Lo elimini. Certo, proprio da pazzi. 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 Ora possiamo andare a riprendere il Maggiore e vendicarci di Alera e dei suoi amici World of Blake. Certo, proprio da pazzi. 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 Oh no. Certo, proprio da pazzi. Certo, proprio da pazzi. Certo, proprio da pazzi. Certo, proprio da pazzi. La pazzi. Non lo so. No. Non lo so. No. 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 Mi sono messo molto bene Mi sono messo bene per un cazzo Mi sono messo bene 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 Questa è una cosa Questa è la situazione questa è la situazione abbiamo manomesso i loro codici radio e sono quasi certo anzi so dov'è il maggiore liberi un'area di atterraggio e ci porterò l'Icarus con il Blood Asp pronto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, vi prego. Sono castrato. No, non ci voglio credere, non ci voglio credere. No, 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 non ci voglio credere. Abbatta quei tunnel per impedire ai rinforzi di raggiungere il campo di battaglia. Abbatta quei tunnel per impedire ai rinforzi. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. che cosa dice a tutti. bene, bene, a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.